SETTIMANE IN COMMISSIONE In settimana la Commissione Bilancio ha licenziato per l'Aula il disegno di legge sulla semplificazione amministrativa, riunione congiunta di bilancio, attività produttive e cultura sui fondi strutturali, mentre in urbanistica si è discusso di emergenza abitativa, audizioni in terza commissione sul commercio ambulante e in commissione cultura del presidente di Film Commission, l'assessore all'ambiente relazionato in commissione sul sistema regionale dei rifiuti e in sanità. Infine, sono state avviate le consultazioni per il piano sociosanitario in merito al gradenigo, sulle medicine non convenzionali e sulle attività di tatuaggio e piercing. INEVIDENZA Si è tenuta al centro congressi dell'ingotto la cerimonia di inaugurazione dell'anno sportivo piemontese 2015. L'evento, caratterizzato dalla consegna delle onorificenze del CONI alle medaglie olimpiche e paralimpiche piemontesi, in collaborazione col Consiglio regionale. IN PRIMO PIANO Le commissioni bilancio, attività produttive e cultura si sono riunite in seduta congiunta per l'illustrazione da parte della Giunta dell'aggiornamento della programmazione regionale dei fondi strutturali europei, con particolare riferimento al POR FSE. Grazie al programma operativo regionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, la Regione Piemonte gestirà quasi un miliardo di euro per investimenti in favore della crescita e dell'occupazione fino a tutto il 2023. Il Consiglio delle Autonomie Locali, CAL, l'11 febbraio ha esaminato il disegno di legge di riordino delle aree protette e le nuove norme in materia di sacrimonti. I rappresentanti degli enti locali piemontesi hanno poi affrontato il tema della legge nazionale di stabilità, con riferimento alle problematiche legate alle risorse assegnate alle province per esercizio delle funzioni. In breve Si è svolta a Palazzo Lascaris la presentazione del concorso per le scuole e della campagna di comunicazione Fate il nostro gioco. Lo scopo è far comprendere, attraverso lo studio del calcolo delle probabilità, che il gioco d'azzardo è soltanto un modo per perdere soldi, ma anche lavoro, affetti e dignità. La campagna, giunta alla terza edizione, è promossa in collaborazione con l'Osservatorio Usura del Consiglio regionale. Grazie a tutti!